La longeva sopopera spagnola, ideata da Aurora Guerra, Il Segreto, si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Nuovi ostacoli riguardanti i protagonisti di Puente Viejo, alle prese con alcuni colpi di scena inaspettati. La settimana di Pasqua porta delle sorprese inaspettate. La trama si concentra intorno alla relazione di Antolina e Isaac Ibrahimal Shami, che stanno affrontando un periodo, complesso della loro esistenza. Pubblicità e, è arrivato il tempo di prendere delle decisioni rilevanti per quanto riguarda il futuro. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo lunedì 22 aprile fanno notare che, al centro dell'attenzione delle trame, ci sarà il personaggio di Isaac. Quest'ultimo continuerà ad avere un rapporto di amore e odio con Antolina per via di una serie di incomprensioni. Questo pesante litigio avrà delle pesanti conseguenze sulla vita della consorte di Isaac. I dubbi di Antolina Antolina, Maria Lima, non avrà dubbi a esprimere il proprio pensiero e svelerà di avere paura per ciò che riguarda il rapporto con il marito. La giovane donna comincerà a temere che il consorte possa farle del male e non saprà in che modo gestire la furia del guerrero. Un'altra vicenda riguarda il destino dell'emporio, alle prese con un'evidente crisi economica che fa temere il peggio per questa attività lavorativa. Si comincerà a temere che possano esserci i presupposti per pensare alla chiusura del negozio, chiusura che potrebbe complicare non poco la vita dei dipendenti. Antolina si troverà alle prese con le proprie paure che diventeranno sempre più evidenti, in quanto si deterioreranno i rapporti con Isaac. La pubblicità Consuelo comprende la verità Marcella e Mattias e cercheranno di capire la realtà dei fatti e vorranno indagare in merito allo strano comportamento della moglie di Isaac, al punto che finiranno per credere che la giovane donna sia troppo sensibile. Il figlio di Alfonso ed Emilia dimostrerà di essere preoccupato per via di questa vicenda e cominceranno i sospetti da parte di Consuelo. Quest'ultima riuscirà a comprendere quale possa essere la verità in merito alla vicenda, scoprendo cosa stia realmente nascondendo Antolina. Un'altra vicenda riguarda il personaggio di Fernando, alle prese con un periodo complesso al punto che il faccendiere si vedrà costretto a fare una richiesta nei confronti di Prudencio. Il Mesia chiederà all'Ortega la possibilità di essere liberato da Sol e Giulietta che stanno complicando i piani dell'uomo. Diventeranno sempre più complicati i rapporti tra Maria e Gonzalo, che non riusciranno a migliorare la loro situazione matrimoniale per via di una serie di ostacoli. Questo articolo è stato verificato con www.mediaset.it www.mediaset.it